Sesto appuntamento domani con la nostra rubrica come aiutarci a tavola. Questa volta la dottoressa Carmela Vitello ci parlerà di intolleranze alimentari, ovvero quelle manifestazioni dell'organismo che derivano dall'impossibilità di digerire un determinato alimento. Questi disturbi purtroppo colpiscono sempre più persone e possono essere provocati da diversi fattori. La dottoressa Vitello quindi ci aiuterà a capire come riconoscere un'intolleranza e di conseguenza quali comportamenti adottare. L'appuntamento con la stessa puntata di Come aiutarci a tavola è quindi fissato per domani, 12 agosto, nel corso di tutte le edizioni del nostro notiziario.